All'inizio dei tempi in cui ho cominciato ad ascoltare l'SMR, proprio all'inizio proprio, quando non mi balenava nemmeno lontanamente l'idea di fare l'SMR, io ero totalmente ammaliata dai video don't clicking. Grande compagno delle mie giornate, io so quanti di voi amino i Mound Sound, sono impagnati, lo schiocco con la lingua e i miei manzoni, il mio don't click. All'inizio dei tempi in cui ho cominciato ad ascoltare l'SMR. Bentornato, bentornata in un nuovo video. Sai perché sono qui, vero? C'è bisogno che te lo dica? Io non penso. Già lo sai. Innanzitutto, sono lieta di ritrovarti ancora e ancora una volta qui. Sono lieta di sentire anche il cane che impagno qua fuori. Grande compagno delle mie giornate ASMR. Io so quanto voi amiate. a volte vi do del tu, cioè a volte parlo come se avessi una sola persona di fronte, altre volte come migliaia, però mi perdonerete certamente. Io so quanti di voi amino i Mound Sound. Mi sono impagnati, lo schiocco con la lingua, i miei Mound Sound, il mio don't click. E questo mi rende felice perché, in effetti, c'è una cosa che non vi ho mai detto, forse, in live, ma credo di no. All'inizio dei tempi in cui ho cominciato a fare ASMR, no, scusate, in cui ho cominciato ad ascoltare l'ASMR, proprio all'inizio, proprio. Quando non mi balenava nemmeno lontanamente l'idea di fare ASMR, io ero totalmente ammaliata dai video Don't Clicking. Sentivo questi suoni messi con la bocca, con la lingua, questi suoni, questa sorta di suoni impagnati anche nel parlato normale, avvertivo parecchi Mound Sound. Oggi sono quei Mound Sound naturali, mentre parli che sente proprio la saliva, a me piace un po'. Comunque, vabbè, quello è un altro discorso adesso, quello è ASMR e chiacchiericcio. Dicevo, quando vedevo questi video Don't Click Mound Sound, io rimanevo imbambolata. Perché dentro di me dicevo, ma come a cavolo fanno? E cavoli, però è pazzesco, rilassa un botto. Bene, ecco. Poi a distanza di tempo, di anni, ho cominciato io a fare ASMR che avevo quasi timore di portare il Don't Clicking. Un po' perché può essere ripetitivo, un po' perché può essere comunque una cosa strana agli occhi degli altri. Ma soprattutto, di non saperlo fare, per me è facilissimo. Ma lo dico oggi, che comunque lo faccio da quasi quattro anni, però all'inizio io ovviamente provavo tra me e me. Dicevo, ma che sto a fare? Non avevo ancora il microfono. Quindi, niente. Mi perdo in troppe parole. Non lo so. Vi direte questo se sta a emozionare perché sta a parlare del Don't Click. No, non mi sto emozionando, però mi sto ricordando i momenti in cui c'è un po' di emozione, la si prova. Perché comunque si parla sempre davanti ad una telecamera di sensazioni che hai provato e che non immaginavi di far provare agli altri. Cioè, appunto, quello volevo dire che a volte mi perdo in troppe parole, però almeno questo serve per farli rilassare. Non immaginavo che poi quel Don't Click, quello schiocco con la lingua che vedevo fare in altri video italiani e straniere, ma soprattutto straniere, devo dire, perché gli italiani ne ho visti veramente pochissimi dedicarsi a questo. Almeno quelli che mi capitavano a me su YouTube, però vabbè. Non immaginavo assolutamente che quello che avrei prodotto come ASMR sotto forma di Don't Click piacesse tanto alla gente, a chi ama questo genere di video. Allora, non voglio risultare monotora, però devo dire che questo video, questi generi di video sul mio canale funzionano e per quanto io ne possa portare, ho dedotto che ne porto veramente pochi. Non dico che il mio canale dovrà diventare monotora, un click, perché altrimenti così scapperete via tutti. Però ci sta a dedicare qualche video in più, perché comunque so che vi concentrate meno sul dormire quando ascoltate discorsi. E magari vi rilassate, soprattutto dormite meglio quando ascoltate i trigger o un sound, queste cose qua. Vabbè, ho fatto questa premessa lunghissima, 8 km. Che è comunque rilassante perché comunque di whispering si tratta. Sto comunque sussurrando. Torniamo al Don't Click. Sì, perché voglio fare, come dicevo prima, prima della parentesi che abbiamo fatto, voglio farvi rilassare col Don't Click e i Mound Sound. Sto, sti, 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 sti no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no, no no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no la 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 ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca...ticca oho oho tickle, 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 tickle a little a half a half come on scherz 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 похего ho ha pece 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 sigilli no, 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 no di 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 lì 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 lì, lì 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 lì, lì 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 tickle 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 ticca 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 e' una caca ticca 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 ii d acubi gotoo la prima volta do 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 rock no 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 Sì no, 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 no ticca 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 t lo 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 ticca 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 ok buonanotte